musica 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 ma non sei dotta? io sogno di campagna elettorale voglio vincere ma bene e io pure musica 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 Continua a essere una parte che c'è lato, è una parte, l'altra parte è il nostro, fate unica, unica cassa Ascolta, sabato, scomiglio che ti chiedo un po' di cose, se andiamo a Vervaio verso la nuova Ah, ad ora ti chiamo proprio un po' di... Tocca, c'è una bella, adesso c'è il po' di cose, non si, non, ma vedi che ti chiedo a fare, non sapevo che bisogna di lato Guarda, siamo con questo, non è il pensino, esce da un po' di tempo, non è il pensino, non so, non è che ci fai qua Ascolta, non è un po' di tempo, non è un po' di tempo Ascolta, devo farlo rapa Costa, ma con che 500 mila Nel 2012 ho ricevuto una serie di telefonate anonime e mi chiedevano soldi, successivamente qualche tempo dopo ho trovato una bottiglia di benzina davanti al negozio e avevano versato benzina sotto la sala cinesca, qualche giorno dopo ancora mi hanno fatto trovare la colla nei lucchetti. Come si è comportato? Ho avuto paura e ho pagato, ho pagato per paura, oggi non pagherei mai più.